In un periodo di grande difficoltà per le sale cinematografiche, che stanno conoscendo un calo di presenza significativo, ancora più accentuato in anni recenti a causa della pandemia, da Prato arriva una notizia positiva che va in controtendenza. Una storica sala nel centro cittadino, da molti conosciuta come Excelsior, all'interno di Palazzo Buonamici Nencini, le cui origini risalgono a lontano XV secolo, diventata nel 1906 locale adatto ad ospitare proiezioni cinematografiche con il nome dei Cinema Garibaldi, rimasto attivo fino al 2009, prima della chiusura totale, è tornato oggi a nuova vita. Acquistato nel 2017 dalla società Civico 69 SRL, dopo un percorso di riqualificazione che si è avvalso del contributo del Ministero della Cultura, Direzione Generale per il Cinema e l'audiovisivo, la sala con il nome di Garibaldi 1020 è di nuovo aperta al pubblico, preservando la sua vocazione cinematografica, la quale si unirà una rosa di eventi dal teatro ai meeting fino alle fiere e ad altri eventi speciali. L'inaugurazione si è tenuta venerdì 18 novembre alla presenza delle autorità cittadine. A tenere a battesimo il nuovo spazio polifunzionale, l'anteprima del documentario di Walter Veltroni è stato Tutto Bello, storia di Paolino e Pablito. Il docufilm sul calciatore Paolo Rossi, la cui carriera aveva preso le mosse proprio tra Firenze e Prato, per poi diventare capo cannoniere mondiale dell'82 Pallone d'Oro, una vera leggenda del calcio. Un film prodotto da Palomar in collaborazione con Vision Distribution e Sky che si è avvalso della collaborazione di Toscana Film Commission e la cui truppa ha fatto base per i servizi cineportuali a Manifatture Digitali Cinema Prato. In fondo il Paolo calciatore lo conosciamo più o meno tutti e tutti abbiamo nella memoria le sue immagini. Forse era meno conosciuta la storia di questo bambino di Santa Lucia, cresciuto in una famiglia non abbiente, in condizioni non semplici, con un fisico gracilino ma con un grande talento e un grande carattere, per cui ho raccontato la sua storia passando attraverso la Cattolica Virtus e anche l'inizio complicato che ha avuto la Juventus fino ad arrivare a tutta la sua vita e purtroppo anche la sua morte. La Sala Garibaldi 1020 è una capienza di 400 posti a sedere, tra plate e gallerie. Tra le dotazioni tecnologiche da segnalare una particolare attenzione dedicata alla fruizione cinematografica da parte di persone con disabilità sensoriale. La programmazione di film sarà realizzata grazie alla collaborazione con la Giglio Film Distribuzioni di Firenze e Fondazione Stensen, con un'attenzione sia al cinema dipendente che a quello mainstream.